Allora, non prendere impegni per mercoledì 2 ottobre, 9 e un quarto circa, non prendere impegni perché faremo una diretta su YouTube dove in questa diretta ci sarà lui. Qui avremo il nostro Marco Canischi e lì si può fare le domande, gli si può scrivere sulla chat, si può fare che si vuole dove un po' lui si racconterà, si farà per fare una serata un po' tutti insieme come l'ultima volta, le ultime due volte l'abbiamo fatta, ci siamo anche un po' divertiti, no? Quindi niente, mercoledì 2 ottobre, 21 e 15 circa, poi metterò il link in descrizione così ci trovi. Comunque se vieni sulla pagina di YouTube la vedi, la diretta, se hai messo la campanellina ti arriva l'avviso, se non hai messo la campanellina metti la campanellina così ti arriva l'avviso e ci si vede. Ciao! Ciao!